Ci stiamo attaccando troppo alla digitalizzazione, l'uomo è ingannato da questi paroloni che poi alla fine non vogliono dire nulla, sono soltanto macchine che i potenti programmano e che tu ne usufruisci sulla base di quello che loro vogliono, no? Non è così? Eh, purtroppo sono d'accordo, dico purtroppo perché oramai viviamo in un'epoca in cui senza tutti questi oggetti non riusciamo più a vivere questi meccanismi. Mi viene da notare però che, riferendomi anche a quella vostra bella campagna che avevo visto della farfalla, l'intelligenza artificiale diventa pericolosa a causa dell'arretramento dell'intelligenza naturale. Cioè se l'uomo che la deve maneggiare decide di sottomettersi completamente a questi, a queste poi che sono come hai detto giustamente tu, sono una somma di algoritmi che sono stati calcolati per rispondere. Però stavo leggendo proprio poco fa, guarda ce l'ho qui davanti, una raccolta del Corriere dove si parla del consumo di acqua perché poi si parla tanto della gente a 2030, del risparmio energetico, della transizione green. Allora, un allarme che ha lanciato la stessa Microsoft nella zona dell'Iowa dove loro stanno, dove sta al centro di Chad GTP, che per ogni chiacchierata di qualche minuto si consuma una bottiglia d'acqua. Che vuol dire che sono previsti da qui a due anni 6,6 miliardi di litri di acqua consumati, 700 mila sono già andati per addestrare Chad GTP. E quindi c'è un problema enorme di sostenibilità di questo sistema. Addirittura in quella zona che è a mezz'ora da Phoenix, dove io sono stato, è già una zona molto calda, dove vanno tutti i pensionati ricchi d'America perché è un clima secco e caldo e fa bene alle ossa. Però per converso è un clima sciuttissimo, ci stanno solo i cactus. Allora, in quella zona si prevede già una siccità, la città, le cittadine si stanno ribellando perché praticamente devono lasciare i cittadini senza acqua per nutrire, per raffreddare i serve dell'intelligenza artificiale. Quindi diciamo che non è tuttora quello che luce. Certamente sono cose che servono, però stiamo avviandoci, ma è proprio, tu hai fatto l'esempio, quello che ti è successo ieri sera, è l'esempio che io facevo continuamente ai miei studenti all'università, quando gli dicevo, vedete che se voi spegnete il vostro cellulare, quando gli facevo una scommessa, gli chiedevo di fare una divisione, un milione e due mila e trecento tredici diviso cento quattordici a mano e non ci riusciva nessuno, e loro mi rispondevano, ma noi abbiamo la calcolatrice nel cellulare, dico sì, bravi, e quando vi manca la corretta cosa fate? E mi guardavano e dicevo, ma no, ma non è possibile. E io gli facevo vedere il trailer di questa fiction che si chiama Revolution, tra l'altro scritta da J.J. Abrams, quello che aveva fatto Lost, in cui si vede che la storia nasce da un incidente in un laboratorio della NASA dove per un errore di questo esperimento viene a mancare la corrente in tutto il mondo. Allora non solo ti si spengono i tuoi serbi, ma succede che la civiltà ricasca nel Medioevo. Allora bisogna fare molta attenzione a queste cose, e quindi sentiamo sparlare soprattutto i politici di cose che non conoscono e quindi dobbiamo tenere la guardia sveglia e sapersene occupare, come fai tu. Però sono poche le persone che hanno la competenza per padroneggiare la questione. Sì, ci sono anche molti nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo su questo argomento, come un nonimo, non c'è il nome forse, che ci dice Fabio, come vivere in un parazzo con ascensore senza scale. No, certo, il paragone è perfetto, perché tu sali con l'ascensore al sesto, settimo piano, poi l'ascensore si rompe, non ci sono le scale, sei in prigione. È vero, sei in prigione.